Quando un collezionista intenda esportare un'opera d'arte deve seguire delle regole ben precise. Per la verità si possono distinguere quattro situazioni molto diverse l'una dalle altre. La prima è il caso che molti si chiedono, cioè se io ho in casa l'opera di una mia vecchia zia se voglio portarla in Francia, in Inghilterra o negli Stati Uniti se devo fare qualcosa. Ora, questa è una situazione in cui chiaramente se la vecchia zia non si chiama Marisa Merz o Louise Bourgeois o Frida Kahlo e quindi se non è un'artista riconosciuta c'è un regime di assoluta libertà, non devo fare assolutamente nulla. Se invece l'opera d'arte è in questione e qua vige un principio di accountability, cioè il privato collezionista che deve fare una autovalutazione del merito dell'opera di cui si tratta. Se si tratta dell'opera di un artista vivente, ovvero che sia stata realizzata da un artista defunto da meno di 70 anni, allora c'è un regime di libertà diciamo così vigilata. Bisogna presentare un'autocertificazione che deve essere timbrata dall'ufficio esportazione e nell'ufficio esportazione normalmente non può esercitare alcun controllo se non verificare che si tratti di un artista vivente, ovvero di un artista defunto e che l'opera abbia meno di 70 anni. La terza situazione invece in cui si tratti di un'opera di un artista defunto e che abbia più, che sia stata realizzata più di 70 anni fa, in quel caso allora lo Stato esercita pienamente il proprio controllo ed è richiesto un attestato di libera circolazione se l'opera circola in Europa oppure una licenza di esportazione se l'opera circola fuori dall'Europa. La quarta situazione è un'opera, la situazione è di un'opera di un artista non più vivente che abbia più di 70 anni ma che abbia un valore inferiore ad una soglia che la legge italiana ha definito in termini abbastanza modesti la soglia di valore 13.500 euro. In quel caso, ripeto, artista non più vivente, opera realizzata da più di 70 anni ma con un valore inferiore a 13.500 euro sarà ancora una volta, come per le opere degli artisti viventi o realizzati da meno di 70 anni, sufficiente una autocertificazione. Importare un'opera d'arte non implica un controllo da parte dello Stato italiano come invece quando si tratta di esportare, almeno non ancora ci sarà una riforma prevista da una normativa europea alla fine di quest'anno, ma per oggi, per adesso, importare un'opera d'arte è un'attività assolutamente libera, a fatti salvi gli obblighi di carattere doganale se l'opera viene da un paese extra-UE. Tuttavia è importante munire, soprattutto per il collezionista italiano che abbia acquistato l'opera d'arte a Londra o a New York, munirsi di un documento che si chiama certificato di avvenuta spedizione o certificato di avvenuta importazione, se fuori viene da fuori UE, che attesti che l'opera effettivamente ha una provenienza straniera, perché in quel caso se l'ufficio esportazione rilascia questi certificati, l'opera per cinque anni è al riparo da qualunque possibile intervento di tutela, o cioè di notifica, da parte dello Stato italiano. Cinque anni che è rinnovabile, in base alla legge attuale, all'infinito. Grazie.